salve sono gerardo magliacano potremmo definirci a partire dal secolo scorso un paese in fuga dal sud verso il nord fughe di cervelli ultimamente abbiamo assistito a un esodo dal nord verso il sud ed ora ci tocca stare fermi chiusi dentro casa chissà se finita l'emergenza ritorneremo alle nostre solite fughe un modo per evitare queste continue moragie c'è per farlo è necessario ripartire dalla nostra cultura o meglio riconciliare la cultura alla cultura riportarle alle origini alle proprie comuni radici innestarle su quell'unico cultus che le unisce a tal fine vi invito a leggere questo libro terromnia ritorno alla mia terra pubblicato da jupiter edizioni di cui vi leggo un estratto di quel mondo antico era rimasto solo l'involcro vecchio in attesa della definitiva di partita di vivo di nuovo di giovani di attivo non c'era rimasto neanche il ricordo nessuno era rimasto lì generazione dopo generazione i paesi si erano svuotati come sacchi di sementi sparsi per altre terre terre del nord terre oltre confine e intanto le piccole comunità si erano ridotte le più fortunate o sfortunate o sfortunate a meri dormitori erano state messe a nuovo irriconoscibili una colata di cemento amorfo come una lapide aveva seppellito il cuore pulsante di ogni singolo paese laddove c'erano vicoletti piazze cantine piccole bottee cappelle circoletti ogni cosa era stata rasa al suono diventando un corpo unico col contado intorno mentre dal suono da quel suono come vermi giganti erano spuntati palazzi senza anima parcheggi e strade asfaltate percorse da suv e monolocali su quattro ruote il mio piccolo paese nativo paese di origine dei miei avi tre generazioni tre secoli di generazioni fino agli anni 50 del secolo scorso era una comunità vitale proficua la montagna e la valle che lo circondano sfamavano l'intero paese oggi anche gli animali sono emigrati quelli che non si sono estinti c'era il bar il circoletto c'erano cantine trattorie c'era il ciabattino il barbiere il palegname c'erano tantissime attività e botteghe c'erano oggi solo cubi di cemento come prigioni la gente non esce di casa se non per andare a lavorare a fare shopping nei centri più grandi della valle o in città per il resto vive rintanata a spiare vita davanti alla televisione una volta invece mi raccontavano i miei genitori la piazzetta davanti casa era piena di gente soprattutto di sera nelle sere d'estate e si chiacchierava fino a tardi dopo una giornata di duro lavoro e nelle sere invernali ci si riuniva davanti al focolare in qualche casa e si parlava ci si confidava si ragionava ci si scambiava consigli ed esperienze conforto si condividevano gioie e dolori le porte erano sempre aperte perché le case erano solo stanze di un unico stabile la comunità le case erano le camere del paese come le stanze di una canzone rinascimentale solo che quel mondo più non esisteva da qualche parte c'erano ancora i paesi ma i paesani i cafoni i contadini più non c'erano c'erano i paesi irriconoscibili ma senza comunità piazze senza più gente strade parcheggi e non c'erano più campi chiese e cappelle ma non c'era più dio l'unico dio era nelle banche che ogni paese aveva banca che si era imposta come la nuova cattedrale pensai o meglio un'idea folle mi fece visita in quel periodo pensai che i giovani invece di emigrare o cercare fortuna nelle grandi città avrebbero dovuto unirsi trasferirsi in questi piccoli centri abbandonati e ripopolarli rianimarli ristrutturarli farli rinascere ripristinando le vecchie attività dei nonni strappare la terra dallo straripante mare di cemento che tutto stava sommergendo avrebbero dovuto impostare una nuova economia basata sull'aiuto e sul baratto avrebbero dovuto fondare una società su dinamiche economiche comunitari avrebbero dovuto vivere in piena armonia con la natura e con gli animali fare in modo che la cultura si riconciliasse con la cultura i giovani dovrebbero riscattare quelle piccole comunità quei paesi fantasma del meridione andare lì a vivere a farci l'amore a fecondare la terra e una nuova umanità se i giovani riscrivessero quel passato che bella pagina di futuro leggeremo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti